Duro commento del consigliere della Lega Mario Vivone dopo gli allagamenti che hanno interessato alcune arterie del territorio di Ponte Cagnano-Faiano nella serata di sabato. Nel mirino dell'ex assessore il sindaco e il delegato ai lavori pubblici Raffaele Sica. Basta col solito teatrino social il gioco dello scaricabarile, afferma Vivone. Servono chiarezza, serietà e maturità. Coloro che oggi parlano e accusano dalle chiacchiere passino ai fatti. Non ci sono più scusanti. Il territorio ha bisogno di manutenzione ed attenzione continua. Non sui social ma sul campo ogni giorno.